E finalmente asfalto fu. Sono partiti i lavori di ripavimentazione in via Antica Rischia nel quartiere di Pettino, uno dei più colpiti effettivamente dal problema delle buche che ha interessato la città, soprattutto dopo le abbondanti piogge. E la città attendeva questi interventi da tempo. Ovviamente non basta via Antica Rischia e la prima via, ma poi tutte le vie cittadine verranno riasfaltate e anche quelle delle frazioni. A darle notizia è stato il vice sindaco Guido Liris, che è anche la delega alle opere pubbliche. Il tratto è interessato dalle operazioni che si stanno svolgendo a una lunghezza di circa due chilometri. L'impegno di spesa è pari a complessivi 280.000 euro. Si tratta di un intervento che andrà a ripristigliare le necessarie condizioni di sicurezza e viabilità, compromesse da incurie e maltempo, lungo un'arteria strategica ai fini del collegamento tra la zona ovest della città la più popolosa e il centro storico, così come tutta l'area est. Una strada molto trafficata è percorsa quotidianamente, oltre che dagli automobilisti, anche da numerosi pedoni che da anni aspettavano i lavori di rifacimento e manutenzione. L'esecuzione degli interventi comporterà inevitabilmente dei disagi alla circolazione. Il vice sindaco se ne ha scusato con i cittadini, ai quali ha chiesto un po' di pazienza, trattandosi di opere urgenti e importanti a fini della sicurezza e dell'incolumità. Grazie.